Un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati alla puntata numero 12 della Pulce con la Tosse in diretta sulla nostra rete, in contemporanea su Toscana Channel il canale 843 di Sky e in streaming sul nostro sito internet www.teletoscananord.it Come sempre approfitto per salutare anche chi ci segue nelle repliche di sabato domani alle 14 e dopodomani domenica alle 18.30 Vi ricordo subito che potete contattarci in diretta componendo il numero 0585 38 21 60 oppure inviando un'email a pulce-teletoscananord.it Alcune domande Cos'è la tossicodipendenza? C'è una predisposizione a svilupparla? Il tossicodipendente è un vizioso, un deviato o è un malato? Cos'è il CERT, il Servizio Tossicodipendenze e come funziona? Sono alcune delle molte, moltissime domande a cui questa sera risponderà il Dottor Maurizio Varese che è primario del Servizio Tossicodipendenze dell'Asle 1 Massa Carrara a cui do il mio più caloroso benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, io ho introdotto alcuni temi molto importanti temi che sicuramente interessano in modo diretto o indiretto veramente molti telespettatori e partiamo proprio dalla prima domanda che ci serve per introdurre questo argomento delicato Cos'è la tossicodipendenza? Beh, la tossicodipendenza ormai è stato chiarito da ricerche scientifiche a livello internazionale quindi tutta la letteratura nazionale e internazionale è d'accordo sul definire la tossicodipendenza una vera e propria malattia una malattia che viene definita cronica e ad andamento recidivante Cosa vuol dire? Vuol dire che dura molto nel tempo e ha la caratteristica di ripresentarsi in periodi diversi della vita della persona Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto perché purtroppo ancora oggi e anche negli ambienti sociosanitari non solo nell'opinione pubblica o nelle istituzioni c'è un po' la convinzione che è la persona che diventa dipendente da una sostanza e intanto bisognerebbe cominciare a parlare di dipendenze e non di tossicodipendenze Qual è la differenza? La differenza è che se diamo tossicodipendenza è limitativo perché si pensa che la dipendenza possa svilupparsi solo da qualche sostanza invece si possono sviluppare dipendenze anche da non sostanze la dipendenza dal gioco d'azzardo la dipendenza è da sesso ad esempio e poi si dà troppa importanza all'aspetto tossico e meno alla persona che sviluppa la dipendenza quindi parliamo di dipendenze anche i nostri servizi dovrebbero chiamarsi servizi delle dipendenze non delle tossicodipendenze ma detto questo ci tengo a sottolineare questo aspetto che chi sviluppa una dipendenza da una sostanza o da non sostanze è una persona che sviluppa una vera e propria malattia e che ha nei confronti della sua malattia la stessa responsabilità che ha un diabetico nei confronti del diabete un cardiopatico nei confronti della sua malattia e così via questo non significa che la persona che sviluppa questa malattia non abbia responsabilità come chiaramente un cardiopatico ha delle responsabilità nei confronti della propria malattia noi tutti oggi sappiamo che fumare fa male avere livelli alti di colesterolo fa male fare una vita sedentaria stressante fa male sono tutti i fattori di familiarità sono tutti i fattori di rischio, di ipertensione eccetera per cui chi ha questi fattori ha una responsabilità chiaro anche chi sviluppa una dipendenza ha una responsabilità quello che voglio dire è che è al pari di altri soggetti che sviluppano altre malattie dunque noi stiamo ponendo l'accento sull'aspetto malattia patologia della dipendenza nelle domande introduttive ho parlato di devianze ho parlato di fenomeni associati generalmente alla tossicodipendenza quali furti, rapine, prostituzione perché c'è questa associazione? è molto chiaro perché molto spesso le dipendenze da sostanze illegali comportano la necessità per le persone per ricercare, per utilizzare la sostanza anche di comportamenti devianti anche perché poi molto spesso la dipendenza da sostanze si associa a disturbi di personalità di tipo antisociale quindi è più facile per una persona che ha un disturbo di personalità che è un disturbo psichiatrico ben definito o un disturbo borderline di personalità fare uso di sostanze e quindi anche avere comportamenti associati di tipo delinquenziale come furti, rapine o la prostituzione questo però non toglie nulla a quello che io dicevo prima è chiaro che nella percezione nell'immaginario collettivo l'immagine del tossicodipendente è sempre legata alla persona deviata alla persona che commette atti criminosi o che è dedito alla prostituzione e questo, ripeto, è un grosso errore perché io e i miei collaboratori non riusciremmo a fare nulla di buono se nell'opinione pubblica generale questa idea non sarà cambiata certo, in ogni caso forse tutto ciò dipende anche dal fatto che una sostanza stupefacente spesso viene usata proprio da chi ha intenzione di delinquere per alterare il proprio stato di coscienza e quindi per compiere con più coraggio il gesto che deve compiere ecco, questo ha comunque un fondamento scientifico il fatto di un'alterazione indotta e quindi volontaria certamente, non dobbiamo dimenticare che quando si parla di tossicodipendenze di dipendenze da sostanze meglio noi dobbiamo tenere in considerazione tre fattori il primo fattore è la persona che fa uso della sostanza chi è la persona che fa uso della sostanza noi tutti sappiamo che ci sono persone che possono tranquillamente assumere un bicchiere di vino a tavola mentre pasteggiano e mantenere un controllo sull'assunzione di questa sostanza mentre altre la perdono con estrema facilità dobbiamo tener conto dell'ambiente in cui viene consumata la sostanza dove per ambiente bisogna intendere non solo il luogo fisico dove viene consumata ma il contesto sociale storico e culturale in cui la sostanza viene consumata per fare un esempio masticare foglie di coca sulle ande per resistere alle difficoltà alla fatica alla fame che si provano a 2-3 mila metri di altezza ha un certo significato e ha determinate ripercussioni sulla persona sniffare una pista di cocaina nel bagno della discoteca ha un valore completamente diverso perché il soggetto attribuisce un significato completamente diverso a quello che fa e da ultimo la sostanza stessa perché chiaramente le sostanze e poi dopo avremo modo spero di spiegarlo hanno un meccanismo comune una via finale comune attraverso la quale agiscono e creano la dipendenza ma lo fanno con meccanismi diversi con tempi diversi e anche con diciamo un grado diverso di potenzialità dunque il tutto si può ricondurre a una teoria che ha basi scientifiche solide per attestare appunto questa sorta di predisposizione che in alcuni soggetti favorirebbe lo sviluppo della dipendenza per introdurre l'argomento e quindi per spiegare questo fondamento scientifico lei ha portato alcuni contributi possiamo iniziare a vedere qualcuno? ecco possiamo iniziare per esempio a vedere l'evoluzione del cervello ci spieghi beh qui ora è un'immagine diciamo molto molto sintetica però come dire diciamo che per far capire ai nostri telespettatori il cervello umano è composto in realtà da tre strutture grossolanamente una che abbiamo in comune con i rettili una che abbiamo in comune con i mammiferi che è il cervello emotivo e poi abbiamo la neocortex che è la parte più evoluta che appartiene diciamo agli esseri umani che ci differenzia poi dai nostri antenati più vicini che sono appunto le scimmie antropomorfe è chiaro che nel corso della filogenesi cioè nel corso dell'evoluzione nell'evoluzione queste queste parti diciamo fanno parte del nostro cervello di quello che noi siamo oggi quindi il cervello dei rettili è il cervello istintivo che regola l'istinto umano il cervello dei mammiferi regola l'emotività le pulsioni e poi abbiamo la parte più evoluta che dove hanno sede le funzioni cognitive superiori come il pensiero il linguaggio e il controllo che cosa fanno le droghe bisogna fare un passo indietro l'evoluzione è stata possibile e la specie umana è sopravvissuta perché tutte le funzioni che sono legate alla sopravvivenza dell'individuo e della specie la natura le ha legate a un meccanismo di ricompensa vale a dire che ogni volta che noi facciamo un'azione fondamentale per la nostra sopravvivenza come mangiare bere dormire fare attività sessuale accudire alla parole noi abbiamo un meccanismo di ricompensa cioè proviamo piacere quindi questo meccanismo che si è evoluto ci ha permesso di sopravvivere ma le sostanze vanno ad interferire su questo meccanismo questo meccanismo è legato anche alla memoria all'apprendimento e alla spinta motivazionale cioè che cosa ci fa fare cerco di spiegarle meglio è chiaro che quando una persona apprende qualche cosa lo apprende più facilmente se è appassionato a quella cosa cioè se quella cosa gli piace a noi tutti abbiamo avuto l'esperienza a scuola l'insegnante andavamo d'accordo la materia ci piaceva era più facile imparare la memoria l'apprendimento ora è chiaro che questi due cervelli cervello della vita istintuale della vita emotiva hanno poi un controllo sulla parte più evoluta che è la neocortex specialmente nella parte che sta dietro il lobo frontale che cosa accade quando noi usiamo le sostanze le sostanze vanno ad ingannare questi circuiti che la natura ha creato per farci provare piacere nel fare tutte le azioni indispensabili alla nostra sopravvivenza e a quella della specie non solo vanno a ingannare questo meccanismo per cui ci distolgono dai nostri compiti primari e ci portano soltanto alla ricerca della sostanza e all'uso della sostanza ma in più mettono fuori uso la parte del lobo la parte frontale che è deputata al controllo allora sempre per far comprendere anche con l'uso di immagini abbiamo visto il cervello il cervello è formato da tanti componenti uno dei quali che di recente viene utilizzato anche dai comici per scherzarci su hai un neurone ti funziona il neurone il neurone vediamo cos'è un neurone realmente con quest'altro contributo qui c'è una bella prego c'è una bella immagine di un neurone ora qui ne vediamo uno solo ma quanti sono nel nostro cervello calcolati insomma circa 100 miliardi di neuroni e se pensiamo che ciascuno di loro possono prendere contatti con altri 10.000 in un numero c'è chi sostiene cioè che i neuroscienziati sostengono che noi abbiamo più connessioni neuronali nel nostro cervello che corpi celesti in tutto l'universo allora mi corregga se sbaglio le connessioni tra neuroni si chiamano sinapsi quindi vediamo questo terzo contributo la sinapsi neuronale ossia i collegamenti tra i neuroni tra le cellule nervose del nostro cervello e anche in questa che è un'animazione lei ci può spiegare cosa succede si vede nella parte in alta un assone di un neurone che è un prolungamento e la parte che sembra una cipolla si chiama vescicola presinaptica sempre in alto poi c'è uno spazio che si chiama fessura sinaptica e poi c'è un'altra cipolla chiamiamola così che è la fessura post-sinaptica che rappresenta il prolungamento detto dendride di un altro neurone certo chiaramente queste due parti come si vede non si toccano c'è uno spazio naturalmente infinitesimale quasi virtuale ma c'è uno spazio dove passa un segnale dove passa un segnale che è un segnale elettrico che diventa chimico per tornare poi elettrico quindi è una trasmissione elettrochimica poi ci sono altri contributi che lo fanno vedere vediamo il prossimo contributo che è proprio quello della trasmissione sinaptica è un contributo anche con un audio che ci spiega e poi lo commenteremo il trasmettitore liberato nello spazio sinaptico viene inattivato attraverso diversi meccanismi i principali sistemi di inattivazione sono rappresentati dalla degradazione enzimatica e o per la maggior parte dei neurotrasmettitori dalla ricattura da parte della stessa terminazione nervosa che li ha liberati gli effetti psicostimolanti della cocaina ecco questo era l'inizio del contributo successivo che parlava degli effetti ci arriviamo quando è il momento lo lanciamo ora lì si vedeva molto chiaramente c'era una specie di lampo nella parte dell'assone quindi nella parte presinattica e c'erano quelle due palline rosse che rappresentano delle vescicole in cui è contenuto il neurotrasmettitore l'arrivo del segnale elettrico segnala a queste vescicole di avvicinarsi alla parte della vescicola presinattica e di liberare quelle frecce rosse il neurotrasmettitore nello spazio sinattico si vede molto chiaramente nel contributo che quelle frecce rosse vanno a legarsi a quelle strutture verdi che stanno sulla superficie post-sinattica e che hanno una struttura complementare come una chiave che entra in una serratura ad ogni neurotrasmettitore corrisponde un recettore quando il neurotrasmettitore si lega al recettore riparte dall'altra parte l'impulso elettrico e questa è la comunicazione possiamo dirla definirla così normale cioè quella sana che avviene nelle condizioni in cui adesso noi stiamo parlando probabilmente sono miliardi le sinapsi che sono in movimento ecco bisogna dire per far capire dopo cosa fa la cocaina che quel neurotrasmettitore in questo caso si parla di dopamina che viene liberata viene poi ricatturata per essere riutilizzata successivamente in una connessione successiva e la liberazione avviene sotto un controllo non c'è mai una liberazione di tutta la dopamina quindi non è mai massiva la liberazione e poi viene ricatturata per essere riutilizzata è come se i neuroni e quindi per poter sviluppare la sinapsi si lasciassero sempre una riserva energetica definiamola così ecco vediamo quali sono gli effetti di una droga ora in questo contributo si parla della cocaina anche questo è un contributo con un audio e poi lo commentiamo gli effetti psicostimolanti della cocaina sono dovuti alla sua capacità di bloccare la ricattura e quindi di potenziare l'attività della dopamina nel sistema nervoso centrale ecco cosa significa lei l'ha spiegato poco fa quindi è come se la cocaina mettesse un blocco alla ricattura della dopamina e quindi e quindi che cosa succede che chi fa uso di cocaina ha una prova un piacere molto intenso perché il neurone viene svuotato completamente della dopamina che contiene la cocaina blocca la sua ricattura e quindi prolunga l'azione della dopamina quindi quel piacere che noi proviamo dopo aver mangiato dopo aver bevuto dopo aver fame o aver sete o dopo aver fatto attività sessuale diciamo si autolimita è un piacere che viene autolimitato altrimenti noi continueremmo a fare quell'azione all'infinito diciamo che le droghe come la cocaina hanno questa potenzialità questa caratteristica di liberare massivamente la dopamina di impedirne la ricattura e quindi di prolungare questo effetto piacevole infatti chi fa uso di cocaina molto spesso fa delle abbuffate in termini anglosassone sono chiamate binges e durano ore giorni o a volte anche settimane al quale poi segue uno strato di profonda prostrazione psicofisica da parte del soggetto perché deve ricaricare le batterie deve ricaricare un po' diciamo così le riserve ecco allora prima di parlare degli effetti dell'astinenza dall'uso di sostanze quindi dall'uso in questo caso di cocaina ci dica anche brevemente sempre in modo comprensibile per tutti i nostri telespettatori che lo ricordo possono intervenire sul tema delicato poi entreremo ancora più nel vivo abbandonando un po' la parte scientifica telefonando allo 0585 38 21 60 o scrivendo la nostra redazione dicevo ci dica in sintesi quali sono gli effetti devastanti della cocaina perché guardando il contributo sembrerebbe una cosa banale mi blocca questo meccanismo della dopamina però poi torna tutto normale non è così non è così perché è chiaro che questo meccanismo è un forte stress per i neuroni e quindi ci può essere anche una morte neuronale precoce a parte che la cocaina è una sostanza che se parliamo sempre dei neuroni ha questo effetto di forte stress e sull'individuo può ad esempio scatenare delle crisi che vengono chiamate crisi psicotiche cioè l'individuo diciamo ha un momento di rottura con l'ambiente circostante con la realtà circostante e quindi è come se vivesse in un mondo tutto suo addirittura si sviluppano allucinazioni paranoie ci sono io ho visto casi di persone che avevano delle allucinazioni caratteristiche quella di vedere degli insetti dei vermi sotto pelle e quindi queste persone che cercavano con degli aghi di toglierli e quindi provocandosi delle lesioni come una grattugia a volte diffuse in tutte le braccia e in tutto il corpo la cocaina la cocaina poi ha degli effetti è un vaso costrittore per cui può causare infarti ictus emorragie cerebrali quindi non solo a livello neuronale ma sull'albero cardiovascolare può avere degli effetti devastanti casi eclatanti come quello del povero Pantani forse sono riconducibili proprio a questi effetti infatti quando c'è diciamo un infarto in un soggetto molto giovane si deve sempre sospettare la possibilità che in qualche modo sostanze eccitanti tipo la cocaina possono essere in causa a parte poi casi particolari ecco dicevamo quindi oltre agli effetti devastanti anche gli effetti dell'astinenza con quest'ultima immagine guardiamocela e lei ce la può commentare sì qui si vede questa immagine molto bella con la PET la tomografia missione di positroni quindi sono delle immagini che si ottengono con degli strumenti che ci fanno vedere in diretta che cosa succede nel cervello si vede in alto vedete le strutture quelle aree rosse per essere semplici in basso diventano giallo giallo verdi negli effetti dell'astinenza questo perché c'è una modificazione e dell'afflusso sanguigno e dell'afflusso di glucosio al cervello e quindi si vede come queste aree vengono modificate da una situazione di normalità come vediamo in alto tutti possono vedere il cambiamento di colore e quindi gli effetti devastanti di una crisi di astinenza quindi in tradotto questa differenza di colore che situazione questa differenza di colore viene tradotta in una differenza di percezione del sé da parte dell'individuo e di manifestazioni esteriori da parte dell'individuo bisogna sempre ricordare che quando all'inizio si comincia a usare una sostanza c'è una fase in cui io uso la sostanza per il piacere che la sostanza dà perché prima ho parlato di profondi piaceri non vorrei che qualcuno a casa capisse male il piacere però che le sostanze dà non è come quello del cibo quando abbiamo fame che lo proviamo tutta la vita proprio perché ha la capacità di autolimitarsi questi tipi di piaceri proprio perché non hanno la capacità di autolimitarsi e di essere molto intensi ma di breve durata poi nel tempo ci fanno pagare un prezzo molto alto perché noi dobbiamo aumentare la quantità della sostanza per provare sempre lo stesso piacere e questo è l'effetto della tolleranza cioè il fatto che noi dobbiamo aumentare la quantità di sostanza per provare lo stesso effetto ma si arriva a un punto in cui la persona non usa più la sostanza per provare piacere ma usa la sostanza per smettere di soffrire per non stare male e lì siamo arrivati alla dipendenza vera e propria vera e propria ecco qui la domanda che poi si ricollega un po' ai vari temi sollevati all'inizio il tossicodipendente a questo punto lo dobbiamo definire o meglio il dipendente lo dobbiamo definire come una persona da tenere a bada per quello che possono essere anche gli effetti collaterali della sua dipendenza o una persona da curare e se sì in che modo? Assolutamente una persona da curare una persona che ha sviluppato una malattia che ha delle componenti genetiche che oggi sono ben chiarite delle componenti neurobiologiche ma anche sociali e di tipo culturale chiaramente noi ad esempio la nostra azienda ha aderito a un modello di cura delle dipendenze che si chiama chronic care model che è stato inventato negli Stati Uniti d'America per curare le persone affette da patologie croniche specialmente cardiovascolari e diabetici questo modello si fonda sulla multiprofessionalità e sulla multidisciplinarietà in un servizio come il nostro ci sono medici ma ci sono psicologi ci sono assistenti sociali ci sono educatori ci sono infermieri cioè più figure professionali ognuna deve in qualche maniera con compiti specifici con compiti specifichi perché il problema è un problema medico ma è anche un problema sociale è un problema psicologico ma queste persone poi di concerto devono formulare una diagnosi e devono formulare un piano di trattamento che può essere farmacologico solamente in certi casi più spesso è un programma di trattamento farmacologico e psicologico quindi integrati con psicoterapia individuale oppure psicoterapia di gruppo specialmente sul modello della psicoterapia di tipo cognitivo comportamentale senta noi stiamo dando per scontato che i nostri telespettatori sappiano cosa sia il CERT in realtà questo termine probabilmente è noto per chi ne ha avuto bisogno per chi ha figli amici o parenti che lo frequentano però probabilmente c'è anche chi non sa esattamente cosa sia quindi possiamo spiegare che cos'è il CERT dove si trova come funziona e come si fa a rivolgersi al CERT partiamo proprio da che cos'è dunque nella nostra azienda noi abbiamo il CERT ne abbiamo due uno sulla zona della Puane e una in Lunigiana in Lunigiana a sede da Ulla nella zona Puane il CERT è diviso in due strutture una sul viale 20 settembre a Carrara e l'altra in viale democrazia a massa e poi abbiamo sempre a Carrara in via Cariona il centro alcologico che presto avrà anche all'interno una struttura per la dipendenza da tabacco da fumo di sigarette e poi abbiamo un'equip del CERT all'interno del carcere quindi il CERT è la struttura che è deputata alla diagnosi alla cura alla riabilitazione al reinserimento sociale delle persone che hanno sviluppato una dipendenza da sostanza l'accesso è diretto non si deve pagare nulla non occorre la richiesta del medico di famiglia chiunque può telefonare rivolgersi al CERT e cominciare a parlare con l'operatore che trova di solito un infermiere che deve valutare lo stato di bisogno della persona e poi indirizzarla alle figure professionali di cui in quel momento quella persona ha più bisogno abbiamo parlato della struttura di Carrara che si trova appunto sul viale 20 settembre in località Fossola perché attorno a questa struttura ma ad altre strutture c'è una percezione tanto negativa al punto che quando mesi fa si parlò della possibilità di aprire un CERT ad Avenza scoppia una mezza rivolta perché? Allora perché il CERT erroneamente è sempre stato connotato come uno spaccio di metadone perché molto spesso magari qualche utente è stazione davanti al servizio è chiaro che noi avremmo bisogno di strutture più adeguate rispetto a quelle che abbiamo la nostra azienda in particolar modo il nostro direttore generale che è molto sensibile e molto attento a questi problemi si sta adoperando perché si possa operare all'interno di strutture più moderne più adeguate e più efficaci chiaramente l'ideale sarebbe quello di avere una struttura unica diversificata con momenti con spazi diversi con orari di accesso diversi a seconda della tipologia delle problematiche che gli utenti presentano quindi questo è quello che noi auspichiamo che possa accadere in futuro però pochi mesi fa si parlò di accorpamento delle due strutture Carrara e Massa e anche questa notizia contrariamente a quello che magari ci si poteva aspettare perché molti potevano anche essere contenti finalmente il CERT di Fossola se ne va in realtà creò un movimento anche abbastanza forte sostenuto da cittadinanza attiva di mamme che dicevano i nostri figli devono curarsi a Carrara perché non è pensabile mandarli a Massa quindi vuol dire che per chi ne ha bisogno è importantissimo avere il CERT vicino casa o nella propria città quindi il progetto è stato abbandonato oppure ci sono altre prospettive ma ora io questo non è un compito mio è un compito della dirigenza dell'azienda e delle istituzioni quindi dei sindaci dei due comuni e dei comuni della costa è chiaro che l'ideale per noi operatori è avere una struttura unica magari posta equidistante tra Massa e Carrara si può pensare anche ad avere due strutture due strutture più piccole chiaramente con costi un pochino più elevati perché è chiaro che il personale poi deve essere alcune figure professionali vengono raddoppiate se lavoriamo su due strutture però certamente bisogna sempre pensare a delle strutture che abbiano la possibilità di dare un'offerta sanitaria diversificata per spazi e per orari a seconda della tipologia cosa che oggi chiaramente non riusciamo a fare quanto vorremmo riuscire a fare questo non significa che chi oggi fiede al CERT non ha la possibilità di essere curato e curato bene ha tutte queste possibilità noi auspichiamo di poterlo fare ancora al meglio quando avremo a disposizione strutture migliori tengo a sottolineare un aspetto non è vero che è il CERT la centrale dello spaccio o dove si verifica più frequentemente questo fenomeno questi fenomeni vengono altrove è che lì è facile vedere se ci sono 3-4 persone davanti a parte che questo è un fenomeno che è veramente limitato se calcoliamo che abbiamo centinaia di persone che tutti i giorni si regano per motivi diversi al servizio quindi avere 3-4 persone a volte davanti è veramente qualcosa di limitato e tengo a dire alle persone che ci ascoltano che noi curiamo i figli di questa città di queste città noi curiamo i figli della nostra gente non curiamo quelli di Milano o di Palermo per cui è un problema di cui ci dobbiamo far carico tutti non lo possiamo demandare solo all'ASA non lo possiamo demandare solo agli operatori del CERT una domanda lei ha parlato di un pubblico molto vasto variegato di frequentatori del CERT immagino però che da parte di chi appartiene a una classe sociale un po' più elevata rispetto ai giovani purtroppo magari disadattati che si trovano a finire in quello che spesso viene chiamato tunnel della droga poi ne parliamo dicevo immagino che chi fa uso di cocaina per esempio e appartiene alla società cosiddetta bene abbia timore perché è una struttura in vista sul viale passaggio continuo di persone di macchine quindi c'è qualcuno di coloro che ho appena identificato che entra oppure seguono altre strade no io direi che molte persone poi riescono per fortuna a percepire il proprio problema e a rivolgersi alla struttura pubblica che è sempre la cosa migliore secondo me che possano fare non tanto perché non ci siano altre possibilità ma perché qui sicuramente trovano una risposta più completa alle loro problematiche è chiaro che bisogna superare questo atteggiamento di vergogna voglio ricordare che 50 anni fa essere depressi era considerato una vergogna oggi è considerata una malattia per fortuna è una malattia di cui si conosce molto di cui c'è la possibilità di interventi farmacologici e psicoterapici molto validi che si può affrontare si può superare molto spesso tornare a vivere diciamo liberamente la stessa cosa deve accadere per la dipendenza da sostanze bisogna superare questa diffidenza il primo passo verso la guarigione è il prendere coscienza da parte della persona e della famiglia di avere sviluppato una dipendenza non vergognarsene perché è una malattia come le altre noi dobbiamo arrivare a far comprendere questo certo sarebbe anche interessante comprendo che il tema è delicato che magari qualcuno che ha attraversato questo percorso ci desse una testimonianza in diretta 0585 38 21 60 sappiamo siamo consapevoli che l'argomento è veramente delicato e che anche se si tratta semplicemente di una voce ci sia sempre il timore di essere riconosciuti comunque noi siamo qua pronti ad ascoltare domande di ogni tipo torniamo un attimo all'argomento delle sostanze non vorrei parlare solo di droghe sostanze o situazioni quali sono le situazioni e le sostanze che creano maggior dipendenza ma dunque qui bisogna capire una cosa che il grado di dipendenza dipende dall'incontro della sostanza con la persona non è che di per sé certo di per sé ci sono sostanze che danno un aggancio più forte che possono indurre una dipendenza più rapidamente rispetto ad altre però non dobbiamo mai dimenticare che gli elementi in causa sono sempre due la sostanza e la persona che fa uso della sostanza e il significato che la persona dà all'utilizzo di quella sostanza le faccio un esempio fumare lo spinello nel 68 come elemento di contestazione politica aveva un certo riflesso sulle persone fumare uno spinello chiusi nella propria stanza perché si ha un malessere che non si percepisce magari in un momento di crisi ma magari una depressione mascherata assume un significato completamente diverso non dimentichiamoci mai di questo aspetto cioè del significato che l'individuo dà a quello che fa è chiaro che quindi da questo punto di vista a volte si parla di questo grande dibattito droghe leggere droghe pesanti io personalmente sostengo che bisogna stare molto attenti a definire alcune sostanze leggere come ad esempio la marijuana o l'hashis perché intanto oggi hanno delle concentrazioni di principio attivo molto più elevati rispetto a quelle che avevano in passato e poi perché possono in alcuni soggetti predisposti come dire slattentizzare cioè far emergere delle problematiche sopite che stanno diciamo sotto soglia che possono in qualche maniera esplodere favorite dall'uso di queste sostanze come ad esempio anche qui stati psicotici o sviluppo di crisi depressive o di stati depressivi e paranoici che a volte si protraggono a lungo nella vita è vero ci sono noi non dobbiamo poi anche nasconderci ci sono persone che hanno fatto uso di cane perché magari c'è qualcuno a casa che ci ascolta e dice ma cosa dice questo io ho sempre fatto l'uso della canna non mi è mai successo niente ed è vero questo succede come succede anche che per fare un esempio che tutti possono capire meglio ci sono persone che nascono a stemmie cioè che se assaggiano l'alcol si sentono male e quelli saranno protette dal diventare degli alcolisti ci sono persone che se bevono un bicchiere due tre poi si fermano perché è come se avessero un freno naturale che gli impedisce di continuare a bere e ci sono persone che se cominciano a bere non si fermano più senta uno dei primi passi che deve compiere un dipendente da qualcosa è ovviamente un atto di grande volontà per esempio lei fuma? io ho fumato ha fumato quindi per smettere di fumare ha dovuto fare un atto di grande volontà le dipendenze non direttamente correlate alla droga quindi dipendenze lei prima ha citato quella da fumo quella da gioco d'azzardo quella da sesso ecco che relazione c'è tra queste e nuovamente anche tra la condizione dell'individuo? diciamo che il meccanismo alla fine ripeto è sempre lo stesso è molto simile per fare un esempio quando si parla di dipendenza da fumo io preferisco usare questo termine e non da nicotina perché in questo caso la droga che entra in gioco è la nicotina ma oltre all'effetto della nicotina che è simile poi a quello delle altre droghe cioè alla fine si arriva sempre alla liberazione di dopamina e al piacere voi immaginate una persona che fuma 20 sigarette al giorno da 20 anni per 20 volte al giorno prende in mano un pacchetto quindi la gestualità viene poi inconsciamente associata a qualche cosa che la persona sta vivendo in quel momento verrebbe in mente mi perdoni magari lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori il cane di Pavlov cioè quindi la salivazione quando vede c'è lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato o neutro quando le due cose si mettono assieme quando si ripresenta lo stimolo neutro questo funziona da stimolo condizionato è la classica tazzina del caffè per il fumatore che fa nascere il bisogno io un tempo fa ero in una paninoteca dove c'erano delle macchinette mentre io ho mangiato una focaccina un signore ha giocato 40 euro alla slot machine ma 40 euro mettendo monete da un euro per volta e ogni volta ripeteva una ritualità quindi l'uso delle droghe ad esempio si associa anche a una ritualità e questo poi fa sì che la persona associ quel gesto automatico e rituale all'uso della sostanza oppure anche al piacere al brivido che dà il gioco da questo punto di vista volevo solamente aggiungere che nel gioco d'azzardo più è veloce la risposta e più la dipendenza è forte in fin dei conti giocare all'otto devo aspettare qualche giorno per avere la risposta mi crea meno dipendenza in generale chiaramente anche se abbiamo avuto casi di gente che si ovvina certamente rispetto alla slot machine perché lì la risposta è immediata certo dunque una domanda collegata a questo argomento ci sono dipendenze dalle quali è più facile guarire rispetto ad altre e se sì perché ma anche qui ripeto dipende dalla persona dipende dalla persona dal fatto che la persona riesca a rendersi conto ad accettare di aver sviluppato una dipendenza è chiaro che può essere può essere relativamente più facile ma non è detto ad esempio alcuni pensano che è più facile smettere di fumare che usare l'eroina guardate molto spesso dalle comunità terapeutiche i ragazzi vengono via non perché non c'è l'eroina ma perché non fanno fumare neanche le sigarette ad esempio durante la seconda guerra mondiale c'era chi barattava la propria razione di cibo con le sigarette io ho conosciuto persone che si racattavano i mozziconi per terra pur di fumare quindi dipende anche lì dipende dalle persone io direi che non c'è una dipendenza da cui è più facile uscire rispetto ad un'altra noi vediamo molto spesso ragazzi che avevano dipendenza da eroina e usavano cannabinoidi che hanno smesso di usare eroina ma i cannabinoidi un po' per la percezione che sia una droga più leggera continuano a farli per lungo tempo allora intanto mi stanno dicendo dalla regia che sono arrivate diverse telefonate ma tutte da persone che non vogliono andare in onda eventualmente tra qualche minuto ne abbiamo ancora circa 19 mi fate una rapida sintesi di quali erano i temi che hanno toccato i telespettatori e magari li citiamo tutti come una sorta di carrellata qualora non li avessimo già toccati noi allora intanto mi stanno dicendo se la marijuana però ripetete un attimo perché non ho capito bene se la marijuana ah ecco sì questa è una domanda interessante quindi sull'uso terapeutico di alcune sostanze in particolare la marijuana è un tema sicuramente interessante beh sono stati fatti degli studi si è visto che il principio attivo ha un effetto sui effetti collaterali ad esempio delle terapie per le neoplasie quindi diciamo come antiemetico quindi contro il vomito e anche questo profondo effetto di rilassamento sulla percezione del dolore un po' tutte le sostanze alzano la soglia del dolore quindi fanno sentire meno il dolore basti pensare all'uso della morfina nei pazienti neoplastici ad esempio dove è lì si capisce come la finalità che viene vissuta dal soggetto è diversa rispetto alla persona che fa uso ad esempio di eroina con una finalità diversa cioè a scopo del tutto ricreativo per cui ci sono bisogna considerare un fatto che per far capire i nostri telespettatori la stessa sostanza può essere se usata in un certo modo e a certi dosaggi qualcosa che può far bene e usata in altro modo ad altri dosaggi qualcosa che può far male qualunque tipo di farmaco è esperienza comune che se non lo si prende nel dosaggio giusto e perché effettivamente se ne ha bisogno può diventare un potente veleno non a caso i greci usavano il termine farmacon per indicare tanto il farmaco quanto il veleno e nel mondo anglosassone la parola drug sta a indicare il farmaco e la droga certamente nel frattempo mi hanno comunicato di un'altra telefonata di un genitore che anche in questo caso preferisce non andare in onda e lamenta una mancanza di funzionalità del cert di fossola soprattutto nella distribuzione di dosi penso di aver capito la distribuzione di dosi di metadone magari se non ho interpretato bene il pensiero ah ecco mi stanno precisando meglio che alla fine tradotto diventa solo una specie di spaccio di dosi di metadone ecco io gliela passo come me la stanno comunicando quindi questo fa parte delle percezioni negative che ci sono attorno può essere un discorso di percezione negativa certamente ripeto la collocazione attuale non è ottimale da parte di quella struttura e c'è ripeto l'impegno da parte dell'azienda e delle istituzioni di massa e carrara a trovare delle soluzioni diverse rispetto a quella attuale però ritengo che come dire non ci sia questo fenomeno io ritengo di poter tranquillizzare tutti che il SERT non è la centrale di spaccio anzi molto spesso avere un SERT quindi le persone non devono avere paura di avere il SERT vicino a casa perché arriveranno allora i dipendenti tossicodipendenti drogati non è così assolutamente no e poi ripeto ripeto noi curiamo i nostri figli ci metto i miei curiamo i nostri figli quindi è bene che si cominci anche la cittadinanza l'opinione pubblica cominci un po' a cambiare il modo di vedere questo mondo allora fino adesso abbiamo parlato di droghe degli effetti della recidiva delle sostanze più o meno inclini alla dipendenza ecco parliamo invece di un altro argomento che è quello della prevenzione quindi intanto la prima domanda come si fa prevenzione? eh questa è una gran bella domanda diciamo che sicuramente i modelli di prevenzione che abbiamo usato negli ultimi 30 anni ahimè fanno acqua perché il numero di coloro che inizia a fare uso di sostanze è invariato può cambiare c'è un aumento nel sesso femminile mentre 20 anni fa la dipendenza da sostanze era un fenomeno prettamente o quasi maschile adesso è un fenomeno che riguarda anche l'altro sesso si è abbassata notevolmente l'età di primo contatto con le sostanze che può essere anche a 12-13 anni addirittura però questo sta a significare che le strategie di prevenzione non hanno funzionato per diversi motivi vede è completamente inutile non si fa prevenzione primaria se si comincia a farla nelle scuole superiori o agli ultimi anni delle scuole medie la prevenzione primaria la si fa dalle scuole materne alle scuole elementari cercando di capire che il cuore del problema della dipendenza da sostanze sta nella parte della nostra emotività quindi questo cosa vuol dire che noi dobbiamo lavorare per far sì che i ragazzi riconoscano percepiscono le loro emozioni e le possono incanalare verso aspetti positivi tradotto che cosa vuol dire molto semplice come si fa a far sì che un ragazzo non diventi dipendente da una sostanza cercando di far sì che sviluppi una passione per qualche cosa qualcosa di positivo che può essere nello sport può essere nella scuola la scuola deve cercare come noi genitori se nello sport ci sarebbe la parentesi doping ma lasciamola da parte è chiaro lo sport bisogna stare attenti quando poi c'è la degenerazione anche nel caso ma anche lì uno sport è vissuto però in maniera sana esasperata e porta quei fenomeni non in maniera esasperata come facciamo noi genitori quando andiamo a vedere i ragazzi però un ragazzo può provare un profondo piacere anche nello studio se lo studio gli viene presentato in un certo modo certamente abbiamo parlato quindi della scuola del ruolo importante della scuola parliamo invece dei genitori e di quella che a volte viene considerata un po' una incapacità da parte degli stessi genitori di rapportarsi con un figlio che magari scoprono di nascosto che si fuma la canna era venuta fuori anche la famosa questione tanto di battuta dei test che i genitori possono fare di nascosto ai figli ecco lei che opinione ha in merito io ho l'opinione che di nascosto non bisogna mai fare nulla anche nei confronti dei nostri figli io capisco i genitori che sono preoccupati ma basta aprire gli occhi per vedere le cose non bisogna avere paura non bisogna ripeto vergognarsi bisogna chiedere aiuto il più presto possibile allora una cosa visto che lei ha questo modo di esprimersi così familiare forse proprio per il tipo di contatto quotidiano che ha con i ragazzi lei è padre ha detto poc'anzi se lei scoprisse figlio o figlia due figli due figli se lei scoprisse che suo figlio uno o entrambi fa uso di sostanze stupefacenti una droga leggera cosa farebbe? la prima cosa che farei è di rivolgermi a una struttura pubblica di rivolgermi a un CERT e di chiedere aiuto alle persone e ai professionisti che operano in quella struttura quindi non avrebbe la tendenza e ora espogliamoci dal suo ruolo di sostituirsi dallo specialista no è un errore questo i genitori devono stare come dire vicino ai figli in questo momento di forte difficoltà non bisogna avere un atteggiamento né troppo punitivo e né chiaramente di superficiale o di copertura sperando che la cosa passi sono sempre campanelli di allarme che ci devono mettere in allerta anche se il compiere azioni a rischio in una certa fase della vita è normale e anche funzionale alla crescita chi di noi in adolescenza non ha commesso qualche stupidaggine però bisogna vedere se questa è stupidaggine che si è commesso e comunque fa parte di un processo normale evolutivo di crescita oppure se comincia ad essere una come dire un incanalarsi verso una problematica diciamo di dipendenza da sostanze o di comportamenti di altro tipo guardi è arrivata un'altra telefonata di un genitore che pone proprio l'accento sull'aspetto vergogna cioè in sintesi anche qua spero di aver capito bene dice io pensavo di aver fatto tutto bene nei confronti di mia figlia a un certo punto ho scoperto che non mi diceva la verità che fa uso che si fa lo spinello quindi dice intanto il senso di sconfitta personale e poi il senso di vergogna quindi come fare a uscire da questo vicolo cieco beh io ritengo che non ci sono come dire non è un giallo non c'è il colpevole in questa vicenda può capitare tranquillamente in famiglie io ho visto ragazzi di famiglie completamente diverse tra di loro che hanno poi avuto problemi con l'uso di sostanze è talmente la genesi di questo problema le cause sono talmente tante e complesse che è inutile sentirsi in colpa è chiaro che un genitore si mette in discussione si sente in colpa e se l'avevi sbagliato cerca di capire forse ho sbagliato qualcosa ma molto spesso capita che in una famiglia c'è un figlio che apparentemente viene definito come quello più bravo il perfetto e c'è l'altro che in qualche maniera invece adotta dei comportamenti di tipo deviante certo questo non significa nulla sono cresciuti nello stesso ambiente hanno più o meno lo stesso patrimonio genetico anche se poi è comunque diverso da individuo a individuo e come mai allora a uno succede e all'altro no diciamo che le cose accadono semplicemente accadono non c'è da sentirsi in colpa e non c'è assolutamente da vergognarsi noi ci vergogneremmo se il nostro figlio avesse il diabete ci vergogneremmo se il nostro figlio che ne so sviluppasse un altro tipo di malattia no non ci dobbiamo vergognare nei confronti della dipendenza da sostanza allora qualche minuto fa avevo usato un termine sul quale mi ero ripromesso di tornare perché lei sta dando messaggi di speranza messaggi positivi quindi sta cercando di togliere quell'alone di mistero che c'è attorno a questo fenomeno il fenomeno delle dipendenze però nel gergo diciamo comune si parla di tunnel tunnel della droga e tunnel fa pensare a un buco nero dove si entra dove non si esce più no ora sulla droga ci sono molti luoghi comuni come vedete il SERT viene visto come la centrale di spaccio magari qualche SERT in passato e qualche SERT ancora oggi lo è non sono più a negare questi aspetti io quando parlo di questo del mondo delle dipendenze dico non usiamo più il termine allarme perché finché parliamo di allarme vuol dire che non siamo capaci di gestirlo nella normalità noi dobbiamo gestire queste problematiche nella normalità e non nella situazione di allarme che significa sempre rincorrere le urgenze e non esiste nessun tunnel della droga cioè questo è proprio un luogo comune che nulla ha a che fare con questi problemi perché tunnel della droga fa un po' pensare a un buco nero come diceva lei dentro il quale uno finisce accidentalmente e chissà se mai riuscirà a uscirne fuori ecco non è così eppure sono luoghi comuni e a volte sono duri da morire ma a me questi non piacciono nella maniera più assoluta perché noi dobbiamo riportare il problema nel contesto suo cioè quello di una malattia che purtroppo può durare a lungo ma dalla quale si può guarire a volte anche spontaneamente perché ci sono casi di guarigioni spontanee cioè soggetti che hanno fatto uso per un certo periodo di tempo di sostanze e poi ne sono usciti tranquillamente da soli senza nessun intervento ci sono persone che invece hanno bisogno di interventi di media durata persone che hanno bisogno di interventi più lunghi a volte c'è bisogno di interventi anche che durano tutta la vita ma voglio domandare l'iperteso non prende forse il farmaco tutta la vita? certo abbiamo ancora sette minuti prima di introdurre veramente l'ultimo argomento una cosa bizzarra che è veramente comunque curioso sottoporre un'altra telefonata riguarda uno dei casi clamorosi che sono balzati all'onore delle cronache nere purtroppo è il caso di Lapo Elkan cioè quanto la predisposizione e quanto il fatto di essere un Agnelli ha contribuito a farlo finire in quello che per lui rischiava di essere un tunnel? ora bisognerebbe conoscere a fondo la vicenda certamente ad esempio nella dipendenza da cocaina ma anche nelle altre dipendenze da sostanze c'è una predisposizione genetica noi sappiamo oggi che il corredo genetico di un individuo è solo il suo e di nessun altro la ricerca farmacologica speriamo produrrà in un futuro dei farmaci che andranno ad agire sul nostro genoma per cui oggi noi usiamo lo stesso farmaco per l'ipertensione che possiamo darlo a 100 persone diverse in futuro ognuno speriamo avrà il suo farmaco per cui chiaramente la predisposizione genetica ha il suo ruolo però quello che noi siamo in questo momento dipende dai geni che ci hanno passato i nostri genitori e da tutte le esperienze che noi abbiamo fatto nella nostra vita allora lasciandoci il tempo per l'ultimo argomento che è estremamente importante l'ultima veramente l'ultima telefonata che è arrivata anche questo è un tema sicuramente delicato un genitore che non vuole andare in onda rispettiamo e comunque apprezziamo per averci contattato dice perché il CERT è così riluttante a mandare i ragazzi tossicodipendenti ho usato il termine tossicodipendenti in comunità dice mio figlio è stato in comunità ed è guarito perché il CERT non voleva mandarlo? ora non so di questo caso specifico il CERT non è riluttante a mandare in comunità noi abbiamo una convenzione con la comunità abrugiana qui di massa e collaboriamo con altre comunità della Toscana e anche da fuori regione ci sono le comunità sono di tipologie diverse e quindi noi cerchiamo quando riteniamo che è veramente c'è il bisogno per allontanare la persona dall'ambiente in cui vive proprio perché gli stimoli ambientali sono fondamentali per le ricadute o a volte perché non c'è una rete di supporto familiare o sociale per l'individuo per cui diventa impossibile fare un trattamento farmacologico ambulatoriale noi inviamo persone in comunità la nostra azienda spende cifre importanti ogni anno per i ragazzi che noi inviamo nelle comunità e anche da questo punto di vista non ci sono quindi sarà stato un caso specifico allora questo non lo so però è chiaro magari invitiamo il genitore a contattare è chiaro che bisogna dire che non esiste come dire il toccasana da una parte o dall'altra perché molto spesso poi il problema è quando si torna a casa dalla comunità se non si è fatto un lavoro di reinserimento graduale e molto attento la recidiva è sempre un problema in agguato allora l'ultimo argomento importantissimo ve lo dicevo l'ho lasciato per ultimo perché deve essere proprio il messaggio con cui terminiamo questa nostra carrellata il fenomeno dell'uso contemporaneo di alcol e droghe che purtroppo è responsabile in larga larghissima parte delle cosiddette stragi del sabato sera sì anche qui c'è stato un cambiamento negli ultimi vent'anni dei modelli di consumo di alcol noi siamo passati da un consumo di vino quotidiano ai pasti con finalità alimentare ad un consumo di alcolici nel fine settimana sul modello anglosassone più birra e super alcolici spesso purtroppo associati a sostanze eccitanti tipo ecstasi o cocaina che cosa accade? accade che quando poi io prendo la macchina alle 4 di mattina e torno a casa l'effetto della sostanza io sono sveglio perché ho la sostanza eccitante che mi tiene sveglio ma l'effetto della sostanza eccitante finisce prima dell'alcol che è una sostanza deprimente tutti noi sappiamo che se uno beve tanto poi si addormenta come meccanismo di difesa per impedirci di morire da per coma etilico certo allora che cosa succede? che l'effetto della sostanza eccitante finisce improvvisamente e già questo sarebbe sufficiente per farci addormentare di colpo ma ancora ho l'effetto della sostanza deprimente dell'alcol che dura più a lungo quindi questi due fenomeni associati la sostanza eccitante che finisce di colpo e l'alcol deprimente che continua mi fanno addormentare di colpo e purtroppo si vedono degli schianti senza frenate in terra perché le persone non hanno avuto il tempo neanche di reagire e quindi purtroppo questo accade per l'effetto sommato di questi due fenomeni così come il fatto che guidare sotto l'effetto dell'alcol riduce il nostro campo visivo raddoppia i nostri riflessi scusi il tempo di reazione di mezzo ai nostri riflessi e a volte basta anche poco per passare da un tempo di reazione che normalmente è 0,75 decimi di secondo con 2-3 bicchieri o una birra se arriva a un secondo e mezzo e quindi vuol dire decine di metri in più e significa il doppio di spazi in cui c'è tra l'altro questo è la spiegazione del perché molte volte alle stragi del sabato sera si associano scene raccapriccianti in cui non c'è nemmeno una frenata in terra e quindi appunto questa perdita immediata di coscienza e quindi diciamo che in un certo senso non c'è nemmeno la percezione di quello che sta succedendo c'è stata ancora una telefonata insistono i telespettatori sulla questione delle comunità le chiedo una replica velocissima cioè si dice se il fatto di mandare e anche qua lei però ha detto che non è proprio così di mandare meno ragazzi in comunità di quante sarebbero le richieste se dipende più da ragioni economiche o dal fatto che credete poco nelle terapie praticate in comunità no no noi crediamo nella terapia individualizzata cioè per ogni persona noi dobbiamo capire che cosa è meglio fare a volte è meglio fare un trattamento farmacologico psicoterapico associato ambulatoriale a volte è meglio inviare in strutture residenziali quindi nelle comunità tenendo ben presente che una volta che la persona è stata inserita in una comunità noi la dobbiamo continuare a seguire assieme alla comunità dobbiamo fare un lavoro assieme dobbiamo stabilire qual è il programma migliore per la persona quanto deve durare e poi curare molto attentamente la fase del reinserimento perché ricordiamoci usare una sostanza viene associato a stimoli ambientali certo ritorno in quell'ambiente ritorno allo stimolo e ritorno a usare la sostanza ultima telefonata prima dei saluti chiedono rapidissimamente una risposta proprio telegrafica se il tossico dipendente si può curare senza uso di farmaci il tossico dipendente si può curare anche senza uso di farmaci bene allora noi invitiamo tutti i genitori che hanno telefonato tutti coloro che hanno questi problemi e che hanno voluto rivolgere queste domande nell'anonimato alla nostra trasmissione a prendere contatto con il CERT una delle strutture a voi più vicine dove troveranno assieme al dottor Maurizio Varese tutto uno staff di collaboratori in grado di affrontare e risolvere tutti i problemi dottor Maurizio Varese che ringraziamo per la chiarezza di essere stato qui con noi grazie a voi noi ci rivediamo in replica domani sabato alle 14 e dopo domani domenica alle 18.30 grazie e buonanotte a tutti domenica alle 18.30 grazie a tutti i genitori grazie a tutti i genitori grazie a tutti i genitori